Giornata di riposo per il Napoli a Castel di Sangro. Ne ha approfittato l'allenatore degli Azzurri, Antonio Conte, che si è concesso un pranzo a base di rosticini e un giro in bici con il suo staff e le leoreali sul Monte Pratello a Rivisondoli. Il riposo, dalla durata di 36 ore, è stato programmato in vista dell'imminente ultima fase del ritiro di Castel di Sangro e dell'importante match di Coppa Italia contro il Modena, fissato per sabato 10 agosto alle ore 21.15. Nella giornata di ieri sono registrate 10.000 presenze a Castel di Sangro allo Stadio Patini e sono entrati solo in 7.000.